La disgregazione di una coppia genitoriale è molto di più di una semplice separazione giuridica. In presenza di figli, la rottura del microcosmo familiare è una diaspora psicologica che può avere ripercussioni importanti sulla sfera emotiva di tutti i membri della famiglia. Con le novità introdotte dalla riforma Cartabia, il ruolo dello psicologo diventa fondamentale nell'accompagnamento della separazione per tutti i membri della famiglia. Proprio questi e altri temi sono stati al centro dei due giorni di lavori del XXII Congresso Nazionale di Psicologia Giuridica, organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica in collaborazione con il Laboratorio di Psicologia Clinica del Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio dell'Università d'Annunzio di Chieti, come spiega Paolo Capri, presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica. La riforma Cartabia entra in modo molto diretto su alcune vicende proprio del ruolo dello psicologo, per cui noi in qualità di psicologi ci siamo riuniti insieme agli operatori del diritto proprio per cercare di capire quali potrebbero essere le occasioni per migliorare le situazioni che troviamo all'interno delle consulenze tecniche d'ufficio, allorché ci sono segnalazioni o denunce di violenze intrafamiliari. Stiamo parlando di conflitto e violenza, che l'uno è diverso dall'altro, ma soprattutto come possa essere possibile che i documenti di un fascicolo penale possano entrare nel procedimento civile per dare modo non solo al giudice ma anche agli psicologi di poter valutare eventuali denunce o comunque tutto ciò che compete la problematica di queste famiglie disfunzionali, perché poi il lavoro è sulla genitorialità, è questo che deve fare lo psicologo, non certo accertare se c'è stata violenza all'interno della famiglia, quello è un compito che spetta ai magistrati, non agli psicologi, i psicologi devono fare delle valutazioni cliniche. Spesso il conflitto generato dalla separazione in cui permangono i genitori di una famiglia disgregata è in realtà uno strumento con cui la coppia continua a essere legata e a stare insieme in maniera patologica, spiega la professoressa Maria Cristina Verrocchio, docente di psicologia clinica presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio dell'Università d'Annunzio di Chieti. Le diverse professionalità debbono tenere conto che il diritto di famiglia deve tutelare tutti i membri coinvolti in queste situazioni così complesse. In realtà molti genitori quando si separano riescono realmente a riedattarsi, si tratta proprio di un lutto, di una perdita. Purtroppo altri genitori che hanno già delle fragilità, invece fanno molta fatica, dovrebbero essere aiutati sin dall'inizio, noi parliamo anche spesso di prevenzione, quindi nel momento in cui accedono per esempio negli studi degli avvocati che li seguiranno già lì con gli avvocati, stiamo cercando di far capire che dall'inizio dovrebbero essere aiutati. In diversi casi non ci riusciamo e il tema centrale è come stanno poi anche questi bambini, perché spesso i figli di queste coppie che continuano a confliggere vengono, noi diciamo triangolati, cioè vengono messi in mezzo al conflitto e riportano delle grosse sofferenze, sia nel momento in cui vivono queste situazioni e sia poi possono riportare anche delle conseguenze a lungo termine. Quindi è una responsabilità davvero importante farli crescere in modo sereno anche di fronte ad una famiglia, come dire, disgregata.